Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny come ogni settimana il nostro appuntamento dedicato ai drop settimanali. Senza perderci in chiacchiere, questa settimana ho svolto i tre assalti cala alla notte, quasi tutte le prigioni con tutti i personaggi sia il 32 che il 34 che il 35 e sono arrivato sul faro quindi due volte Osiride 9-0 mentre col terzo personaggio non avevo tempo e mi sono accontentato delle 5 win giusto per prendermi il casco. Andiamo con ordine. Nel primo cala ho droppato un'equazione dai ricevi, un fucile a fusione molto buono a dire il vero, ha un buon impatto, che personalmente consiglio a tutti di tenerselo e riforgiarselo per avere dei perk decenti. Il mio purtroppo l'ho smontato perché già ce l'avevo su uno dei tre personaggi e non volevo averne due, non c'ho spazio per averne due sinceramente e quindi questo l'ho smontato però come arma è molto buona e vi consiglio di tenerlo. Nel secondo assalto cala alla notte ho droppato una mente d'ossidiana, casco esotico per lo stregone introdotto con l'oscurità dal profondo, molto buono con la sottoclasse del camminatore del vuoto che ho tenuto e ho smontato quello vecchio perché aveva delle statistiche migliori, quindi ci ho guadagnato tutto sommato. E infine nel terzo ed ultimo assalto cala alla notte ho droppato le ali della rovina, guanti esotici per il titano che ho smontato perché facevano cagare a statistiche, quelli che avevo io erano decisamente migliori quindi diciamo che ho preferito tenermi un frammento esotico. E per quanto riguarda cala sinceramente sono un po' amareggiato stasettimana, ok sono due droppe esotici e tutto quello che volete, ormai non mi serve più niente a livello di armi quindi trovare armi esotiche me ne frega anche relativamente poco, ho già tutte quelle che mi servono in tutte le copie che mi servono, però avere delle armature esotiche magari con delle statistiche migliori di quelle che ho già io, statistiche decisamente migliori, magari il role migliore possibile, tanto per buttarla lì, diciamo che non mi dispiacerebbe. Comunque passando alle prigioni degli anziani, ho detto che le ho fatte quasi tutte sì ma non ho droppato praticamente niente, se non un altro cifratore anziano completando scolas mi pare, sì da una prigione al 35 comunque il terzo cifratore anziano, l'ultimo che mi serve col quale prenderò il signore dei lupi, l'ultima arma che mi manca e l'unica che a quanto pare avete visto non ho ancora recensito perché non ho ancora effettivamente preso. Una volta completata anche questa taglia se me ne dovesse ridare altre in futuro penso che le farò con tranquillità perché francamente non sono armi da dire io ne voglio più di una copia una per ogni personaggio, non sono così tanto forti, sono uniche nel senso che sono veramente particolari come armi ma non sono dei must have in tre copie, come ad esempio il ghiallor non rompighiaccio che è sempre buono averlo su ogni personaggio per chi come me si rompe le palle ogni volta di spostarla. E per concludere prove di Osiride non c'è il video a sfondo perché ho dimenticato di registrarlo o per meglio dire sono andato sul faro ho aperto, ho aperto i pacchetti e tutto e ho spento la registrazione perché non avevo trovato niente, la verità è che avevo gli slot degli armi speciali occupati perché in realtà ho trovato un tempo e pazienza che ok ho smontato perché ne avevo già tre copie due adesso non mi ricordo comunque avevo già quelli che mi servivano però l'ho trovato quindi era opportuno inserirlo in questo video però non l'ho registrato perché sono un coglione quindi ci ho pensato che potevo avere, che avrei potuto avere gli slot e pieni quindi non me ne sono accorto, me è colpa e per quanto riguarda i drop di queste settimane tutto, non ho trovato praticamente nient'altro se non armi leggendari e qua e là magari facendo qualche assalto così ma nulla di rilevante. Quindi ragazzi questi erano i miei drop e ai vostri vi invito a lasciarmi un commento qui sotto scrivendomi cosa avete droppato se ne siete felici o cosa avreste voluto droppare anche se francamente posso benissimo immaginare cosa avreste voluto droppare tranquilli. In ogni caso come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione vi invito a lasciarmi il vostro feedback iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi